Ancora una settimana, dal 25 ottobre al 1 novembre, di disagi e difficoltà per migliaia di residenti della provincia di Pescara e Chieti a causa della carenza idrica che va avanti dalla scorsa estate. Dall'azienda consortile acquedottistica fanno sapere che le attuali condizioni meteo hanno determinato una riduzione di portata delle sorgenti. Diversa la lettura del Partito Democratico che accusa ACA e Regione Abruzzo di aver sottovalutato il rischio di una situazione verificatasi già nel 2020, oltre a ritardi per quanto riguarda la captazione. Sì, c'è stata sicuramente una sottovalutazione da parte dell'Aggiunta regionale, in quanto dagli atti in nostro possesso abbiamo potuto verificare che le richieste da parte di ACA risalgono a marzo del 2021 e non a maggio del 2021, come sostiene l'Aggiunta regionale. Quindi un ritardo di ben tre mesi che ha comportato una diminuzione del 25% delle risorse di acqua per la cittadinanza. Come Partito Democratico chiederemo al Comune di esercitare un'azione legale nei confronti dei responsabili affinché quantomeno vengano risarciti per il pregresso i cittadini e immediatamente si trovi una soluzione per poter risolvere l'emergenza idrica, della quale ormai si parla anche al di fuori dell'Abruzzo per la gravità del caso. Il Partito Democratico, che affronterà il problema domani pomeriggio in Consiglio, chiede un cambio di passo per quanto riguarda i lavori di ammodernamento delle reti, visto che gli unici fondi attualmente disponibili sono quelli del Masterplan.